Grazie, grazie per l'opportunità comunque di unirmi a un gruppo così. La prima cosa che ci tengo a dire è appunto il gruppo di ragazzi che ho trovato, alcuni li conoscevo, diciamo proprio con un rapporto di amicizia, altri più per averci giocato contro, ma dal primo giorno mi sono sentito diciamo come se fossi sempre stato qua, come se li conoscessi tutti da tante. Questo sicuramente mi ha aiutato tanto nel processo di integrazione alla squadra. Sono contento della mia prima partita perché comunque era da tanto che non scendevo in campo. L'anno scorso è stato comunque tutto molto travagliato come percorso, quindi avevo anche voglia di rimettermi in gioco e penso che questa sia anche un tipo di squadra giusta per me. Quindi spero di continuare a far bene, allenarmi con la serietà come vedo tutti i giorni e comunque niente, anche a livello, capisco questo ambiente che c'è anche appunto da un livello della società che ho notato molto competente, molto presente con i giocatori e penso che sia fondamentale per creare un clima diciamo disteso nonostante sia un periodo che con gli infortuni ci potrebbero essere dei nervosismi e delle tensioni. Quindi sono molto contento.